E' stato siglato l'accordo tra Regione Abruzzo e Rete Ferroviaria Italiana. Come annunciato da tempo, obiettivo ridurre i tempi di percorrenza nella tratta Pescara-Roma, potenziare collegamenti di relazioni metropolitane e suburbane e sviluppare una connessione con network operatore ferroviario regionale. Nel documento firmato ieri a Roma tra il governatore d'Abruzzo, Luciano D'Alfonso, e l'amministratore delegato di RFI, Maurizio Gentile, si annunciano incrementi di capacità di traffico ferroviario e degli standard di qualità servizio, quali la puntualità, la regolarità e la sicurezza sulle tratte Pescara-San Vito-Lanciano-Termoli, Teramo-Giulianova-Pescara, Pescara-Sulmona, Sulmona-L'Aquila e Pescara-Roma. Quest'ultima in particolare verrà velocizzata con una percorrenza complessiva di 3 ore e 22 minuti. Al termine dell'incontro il presidente D'Alfonso ha dichiarato, dopo aver definito il nuovo modello di esercizio ferroviario con Trenitalia, ora incassiamo la programmazione degli investimenti sull'infrastruttura ferroviaria che consentirà la velocizzazione degli spostamenti, il cadenzamento dei collegamenti interni ed esterni. L'accordo quadro fra Rete Ferroviaria Italiana e Regione Ebruzzo ha spiegato all'amministratore delegato Maurizio Gentile testimonia la grande attenzione del gestore dell'infrastruttura verso questo territorio. Già dall'11 dicembre, data di entrata in vigore del nuovo orario invernale, i viaggiatori abruzzesi potranno godere di diversi benefici, come la velocizzazione dei collegamenti in Roma-Pescara o il nuovo sistema di coincidenze nelle principali città della Regione.